Questo è il motivo del perchè non sto facendo più video Ecco, guardate Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono ZetaMaintec e oggi siamo qui in questo nuovo video Solo la intro va bene, poi il video rimane così Come devo fare? Ciao ragazzi, come potete vedere sto iniziando una nuova... Il mio pc ragazzi sta andando a puttane, fa schifo il mio pc Quindi dovrò aspettare questo Natale per comprare il mio pc nuovo Quindi per il momento il mio canale è sospeso Ciao